Ben trovati, questa sera mi è venuta la classica illuminazione, credo che sia esperienza comune dove a un certo punto la sinapsi si apre e avete appunto l'idea geniale, a mio avviso è geniale, ma magari per qualcuno può essere una stupidaggine colossale. Comunque sono alla ricerca da parecchio tempo della miglior sistemazione di washi tape, cioè questi nastri di carta o marker tape, nastri adesivi tipo scotch colorati eccetera che si usano per decolare le agende e hanno altri usi. Se voi digitate su google sistemazione oppure organizzazione, washi tape e andate soprattutto nella sezione di google immagini, avete un sacco di spunti, un sacco di idee, ci sono cose bellissime che si possono comprare, che si possono fare eccetera eccetera. La stessa Daniele nell'ultimo video ha fatto vedere che lei utilizza un sistema ad anello, un anello molto grande che è apribile ovviamente e dove può inserire tutti i vari washi tape. Si può fare anche con un filo di ferro molto robusto o prendere la ossatura di quelle collane di solito che si usavano negli anni 70 con quella struttura rigida che si apre dietro se avete qualcosa di riciclone. Io però volevo ancora qualcosa di più pratico nel senso da tenere sulla scrivania e eventualmente da posizionare dentro una scatola e da utilizzare con grande comodità e soprattutto che contenesse pochi washi tape in modo tale da fare un'organizzazione, una ripartizione a seconda del tipo. Io fino adesso li ho tenuti in queste scatole qua che sono scatole comuni, quelle che di solito trovate la frutta, la verdura nei supermercati, le rilavo, sono bucate sotto, non so se si vede, trasparenti. Io li riciclo moltissimo per l'organizzazione dei cassetti dove tengo gli utensili, washi tape o cose di cartoleria oppure anche altre cose in cantina, nei cassetti della cucina, insomma un po' dappertutto. A volte anche in bagno per alcuni prodotti eccetera. Io non ne ho tantissime, ho soltanto questi due che sono un po' pieni di washi tape e volevo appunto avere qualcosa che mi permettesse di vederli subito e di non starli a cercarli ripetutamente. Poi spesso e volentieri, soprattutto di questi qua che trovate dai cinesi, di solito ne vendono circa 8-10 a qualcosa come 1,60 euro, sono dei pacchettini, ne ho qualcuno doppio e di conseguenza volevo per non consumarlo tutto, insomma, vedere quelli che sono già iniziati e quelli invece che sono nuovi eccetera. Allora, le illuminazioni cos'è stata? Le illuminazioni migliori hanno quando si va in bagno e un mio cruccio è, io sono un po' fissata con il riciclo, il mio cruccio è come riciclare i rotoli di carta igienica finiti, per intenderci questi. Una volta finito la carta igienica rimane questo cartoncino che è ottimo e anche lì se cercate sul web trovate mille mille più idee, io ne ho fatte di tutti i tipi, pacchettini regali, bustine, contenitori quadrati, porta penne, porta un po' di tutto eccetera eccetera. Però non so come mai mi è venuta questa illuminazione e vi faccio vedere il risultato. Allora, vediamo se riesco, adesso credo di aver acquisito anche una nuova tecnica, abbassando qui voi vedete più o meno, a parte il mio maglione splendido, la camicia in pile che è fonte di mia sopravvivenza nei periodi invernali, vedete il mio porta washi tape fatto con il rotolo di carta igienica, qui ne ho già fatti due, li sto iniziando a fare, in pratica che cosa sono? Sono dei tubicini, se vogliamo, che si appoggiano comodamente sulla scrivania, ce ne stanno pochi, come vedete ne ho tre e tre sei, al massimo sette, non di più questi sono, sì, sette, più o meno, questo sistema sette. Però la cosa interessante è che sono appunto delle colonine singole e che poi infilando il dito così prendete, può essere una stupidaggine però per me è una cosa molto pratica, si possono spostare. Avendone pochi è possibile o prendere questo oppure sfilare il terzo e utilizzare il quarto e inserire gli altri e via dicendo e poi reinserirlo nuovamente. Alcuni preferiscono avere delle strutture esrotolare e usare così, io invece preferisco sempre averlo in mano perché a volte ho una pagina che non è proprio facilmente accessibile con tutta la struttura del raccoglio washi tape, quindi il fatto di poter averlo, maneggiarlo oppure addirittura sfilarlo e portarmelo dietro, quindi non essere nulla di vincolante è molto comodo. E quindi ho pensato a questo, quindi come si fa? Allora, voi dovete fare in pratica una sorta di cilindretto che perfettamente vada ad espandersi, diciamo in questo modo, ed occupare la circonferenza del vostro washi tape, del vostro scotch, parliamo in questo modo. Allora, io prendo il lotto di cartigenica, lo taglio a metà e lo apro, dopodiché inizio a piegarlo così e lo riduco in questo modo e poi infilo i miei washi tape. Facciamo così, 3, 4, 5, 6, arriviamo a 6. Adesso, nel momento in cui li ho inseriti, faccio in modo che il cartone all'interno si dilati e vada in un certo qual modo ad assumere l'intera circonferenza, quindi stabilizzi i washi tape. Poi decido, ovviamente, una certa distanza, ecco, di questo tipo e non faccio altro che andare a tagliare, penso che sia abbastanza intuitivo, la parte, un'estremità. Quindi taglio in questo modo, faccio più tagli, di circa, insomma, date a occhio, ecco. E dovete, ovviamente, tagliare alla stessa altezza, magari aiutatevi con l'ultimo washi tape che rimane e poi non fate altro che piegare i lembi tagliati in questo modo e avete, in pratica, la base. Ecco qua, dopo dovete, ovviamente, piegarlo un po' meglio in modo tale che la forma venga acquisita correttamente e il vostro porta washi tape rimane in piedi. Possiamo anche aggiungerli un altro. Se qui il lembo si aprivi da fastidio, potete o pinzarlo con un punto, come ho fatto io, per esempio, qua, che si apriva un po' troppo, o ho fatto un giro di scocce trasparente. Io la trovo un'idea geniale, sì, sono effettivamente un genio. Non mi sembra di averla vista da nessuna parte su internet e queste specie di colonnine mi permettono, appunto, di riciclare e di avere pochi washi tape che addirittura potrei ordinare per colore, per tema, insomma, qualsiasi criterio io voglio utilizzare. E potete ritenere sulla scrivania oppure comodamente mettere in una scatola, adesso io non ho scatole, però, se avete una scatola piatta, per esempio, una bella scatola che volete conservare, oppure anche una scatola delle scarpe che ricoprite, potete farvi una sorta di contenitore con tutti questi, uno vicino all'altro, all'interno della scatola, adesso vi faccio vedere, ma penso che sia abbastanza intuitivo, e poi prenderlo così e avere i vostri washi tape a portata di mano. Se volete dare una maggiore stabilità potreste, in caso, vediamo, prendere del cartoncino e, come ad esempio questo, prendere una forma tonda, adesso vabbè, non guardate che io riciclo tutto dal contenitore della ricotta ai rotoli di cartigiani, che le sono un po' fissate, fate un bel cerchio, tagliate, dopodiché non fate altro che incollarlo. Al di sopra, quindi avrete una bella struttura circolare, che dà ancora maggior stabilità, in caso, appunto, vi piace questa soluzione. Se volete fare qualcosa di carino potete utilizzare del cartone carino, o addirittura, sempre per stare nell'idea riciclo, andare a riciclare dei cartoni. Ad esempio, io compro parecchio dall'erbolario e tengo, ad esempio, queste scatoline. In questo caso, io ho tutto il mio kit per la ricarica e gli inchiostri blu della penna stilografica. Però, in caso, se avete una bella scatolina, potreste aprirla e calcolare un po' la struttura, che non è altro che un rettangolo, appunto, come avete visto, tagliando il rotolo di carta igienica, avvolgerlo e avrete, anziché del cartone molto grezzo, questo bel motivo e quindi fare anche qualcosa di carino. Oppure potete ricoprirlo, potete colorarlo, insomma, veramente ci sono molti, molti modi. Io, ripeto, lo trovo molto, molto comodo. Ecco, un altro modo che volevo fare, però richiede un po' più tempo, è anche del materiale, quindi non è proprio di riciclo, serve per investire un po' di più. Non so se lo vedete, questo qui è un appendi abiti abbastanza antico e di pregio, perché è di legno vero. Anche altri sono di legno vero, però sono quel legno, quel buon legno, ecco, di cui un tempo, nelle case dei nostri nonni, venivano fatti questi portaabiti. Questo è un progetto che nasce dall'idea della mia dolce metà, che mi ha fatto un portacollano. In pratica, lui ha aggiunto questa asticella con questa tipologia di viti, adesso non è per il washi tape, ma vi faccio vedere. Poi ha fatto dei fori col trapano e ha fissato con colla questi spunzoni. E di fatto è uno dei miei portacollano, quindi io lo faccio, metto così, lo appendo e poi la collana non fa altro che appendere. Quindi ne posso mettere anche di più una vicino all'altra, per esempio, tutte quelle in tonno di blu, oppure altri bracciali, eccetera. Questo è molto comodo, perché, per esempio, avendo il gancio per l'armadio, potreste tenere, ad esempio, alcuni monili, oppure le cinture all'interno del vostro armadio, proprio attaccato, con questa semplice accortezza, cioè questa semplice procedura. Dicevo, per i washi tape potreste fare la stessa cosa in questo modo, cioè avete degli spunzoni e potete mettere i vostri washi tape. Oppure è possibile utilizzare una base di legno un po' più alta, una vera e propria striscia, andate al brico, ne hanno di tutti i prezzi, di tutte le lunghezze, eccetera. Col trapano forate, poi prendete le asticelle, che sempre al brico ci sono, tonde, tagliate di misura e vi fate il vostro porta washi tape. Magari fate una striscia in questo modo, oppure potreste fare dei blocchettini con il concetto di questo, però singolarmente. Ecco, questa è un'altra idea, è diciamo così un'organizzazione della scrivania con washi tape, questa del legno e con questa metodica che mi piacerebbe fare per avere qualcosa di un po' più rifinito e raffinato. Però, ripeto, ci vuole materiale, quindi vuol dire investire dei soldi, ci vuole tempo e anche un po' di voglia da parte mia. Quindi vediamo se magari la mia dolce metà, chissà, per Natale mi realizza qualcos'altro con questo sistema. A parte tutto, spero che questa idea vi sia piaciuta, a me piace molto, io adesso spengo e continuo con il fare i miei porta washi tape da scrivania. E stavo pensando ad un mega, a una mega colonna fatta con l'interno del rotolo della carta da cucina. Adesso vedo se è troppo, lo taglio a metà, in modo tale da avere esattamente due rotoli di carta igienica e poi procedo con lo schema che vi ho fatto vedere inizialmente. Allora, vediamo, ecco di tirarci su per i saluti, queste cose sono idee che a me rendono molto contenta e contento di poco. Però, insomma, associare una cosa pratica con il riciclo per me appunto è fonte di grande gioia. Basta, baci cartonati. Basta, baci cartonati. Eta.